La cordata di scalatori per il NO non è riuscita ad arrivare a quota 2.914 metri a causa dell'improvviso peggioramento del tempo, ma si è fermata su 2007, dimostrando che la vetta può comunque essere raggiunta con una montagna di NO. E' così che l'iniziativa simbolica del Comitato regionale Abruzzo del coordinamento di democrazia costituzionale per il NO al referendum costituzionale ha raggiunto un parziale obiettivo. La scalata al versante ovest del Gran Sasso d'Italia dal titolo In vetta per una montagna di NO spiega una nota del Comitato stesso, ha acquisito un'importanza simbolica sulla possibilità di arrivare su una vetta apparentemente irraggiungibile a causa della disparità di mezzi di informazione e vincere questa battaglia, cosa che sembrerebbe impossibile come scalare la vetta più alta dell'Appennino. I componenti del gruppo torneranno entro la settimana prossima per raggiungere e chiudere dunque la simbologia della scalata alla montagna di NO. Intanto, per sabato 20 agosto all'Aquila città, è prevista alle 10.30 una conferenza per la presentazione nel Comitato delle donne del Sì al referendum costituzionale, organizzata dalla senatrice Stefania Pezzupane.